Assessore, lei il percorso romantico lo farà il 14 di febbraio? Io sì, parteciperò a questa serata anche perché è quale occasione migliore per rivivere le suggestioni di Civitella del Tronto come borgo. A metà strada tra la storia e il romanticismo, la festa degli innamorati, ma anche e soprattutto uno dei borghi più importanti dal punto di vista storico, Civitella del Tronto con la sua fortezza, uno scenario che potrebbe essere unico. No, decisamente è unico, è vero abbiamo la fortezza come lei ha detto che comunque fa da cornice a moltissime manifestazioni perché si presta un po' per la sua storia e per il suo patrimonio artistico, però veramente con San Valentino invece abbiamo voluto un po' accentrare il borgo, cioè il borgo deve essere protagonista con la sua storia e con il suo patrimonio artistico che è veramente ricco, quindi siamo contenti di promuovere appunto San Valentino a Civitella del Tronto che sarà appunto la serata organizzata dall'Associazione Orgoglio Civitellese, proprio che si concentrerà sulla visita guidata di tutto il borgo. A Civitella, chiedo scusa, a Civitella gli angoli, le situazioni particolari non mancano? No, assolutamente, come dicevo il borgo si presta già di per sé, poi ci sono anche i fondaci che per esempio anche in occasione del mercatino dell'artigianato che ripartirà l'Ottomazzo sempre organizzato da Orgoglio Civitellese, riaprirà quelli che sono anche i fondaci per dare spazio anche agli espositori, agli artigiani di varia natura. Come si svilupperà la serata? La serata sarà una serata tipica, comunque mantenendo sempre il romanticismo del San Valentino che è alla base della serata. Ci sarà appunto questo percorso lungo tutto il borgo con delle visite guidate, Palazzo Graziani, Palazzo Scesi, comunque anche le chiese San Francesco, la chiesa della Scopa, eccetera. E a conclusione ci sarà un aperitivo organizzato un po' da tutti, da molti ristoratori del territorio, non soltanto comunque di Civitella come borgo. E poi ogni coppia potrà scegliere il ristoratore di fiducia dove concludere appunto la serata romantica Lume di Candela. E con la luna magari, speriamo. Con la luna magari, ma il tempo sarà un po' freddino, ma ci equipaggeremo con i piumini.